Buongiorno ragazzi, come state? Oggi volevo rispondere a un utente YouTube che recentemente mi ha ringraziato per un post che avevo fatto di YouTube Un video come eliminare in modo definitivo i messaggi su Facebook e mi aveva ringraziato Io come risposta avevo detto se avevi qualche domanda da farmi fammela pure che cercherò di risponderti Bene, mi ha risposto subito praticamente e praticamente mi chiede cosa significa taggare una foto e mandare un poche ad un amico Dunque, praticamente taggare una foto serve per far sapere, serve per indicare in una foto la tua presenza Quindi se tu tagghi, se conosci, in una foto ci sono 10 persone e tu conosci il tuo amico Tu puoi taggarlo nel senso puoi segnalare che lui è il tuo amico Quindi quando la persona verrà taggata saprà che è presente in quella foto E niente, praticamente nell'aspetto della privacy vi avevo segnalato come disattivare alcuni aspetti Per tutelare al meglio la propria privacy Perché magari farvi taggare e quindi farvi mostrare ad altri che siete in uno stato un po' Magari avete fatto una festa e siete un po' brilli e vi taggano E sapete che nel vostro facebook molte persone vi conoscono, potrebbero pensare male di voi per dire Ecco, in questo modo io già in un recente video per quanto riguarda la privacy di facebook Dunque avevo spiegato come tutelarsi al meglio Mettendo semplicemente visibile solo a se stessi O magari comunque con la possibilità di taggarsi Che noi ci tagghiamo, non che gli altri ci taggano E niente, questo è un modo ulteriore per conoscersi Il geotagging invece è praticamente sapere dove una persona è in un dato momento Ad esempio esistono delle applicazioni, ad esempio facebook Oppure foursquare che è un'altra specie di social network Praticamente il geotagging è far sapere a tutti dove siete in un dato momento In questo modo potete, ad esempio Vabbè, ad esempio in foursquare esistono dei premi Vabbè, in foursquare ad esempio danno dei premi Oppure se c'è qualche catena particolare che se vi registrate nel loro posto Vi dà degli sconti, ad esempio tipo un mcdonald, robe così Possono fare questo genere di regali Per quanto riguarda il poke Generalmente viene definito poke tipo un abbraccio O lo scherzo Non è ancora ben chiaro a cosa serve È più un modo per far sapere Sono interessato a te Oppure comunque un abbraccio, ti sono vicino Caro Spartan3070 Spero di averti risolto i problemi Se hai altre idee o consigli Fammeli pure Ti ringrazio per l'attenzione Cordiali saluti Francesco Ci ringrazio per l'attenzione Ci ringrazio per l'attenzione Ci ringrazio per l'attenzione Ci ringrazio per l'attenzione